Ciao a tutti ragazzi per un ultimo nuovo video, sono Mattia di Fio, cerchiamo su provano a spaventarti challenge e da un po' che non portavo video provano a fare qualcosa e ho voluto fare una provano a spaventarti challenge vediamo com'è questa è l'ultima parte del prova a non spaventarti detto tra noi, siamo su youtube, non possiamo portare video sceni tipo gente che muore e cose simili quindi sì, siamo in modalità hardcore, ma sempre nei limiti di questa piattaforma ti ricordiamo che se non ce la fai devi stoppare il video, scrivendo qui sotto per quanto è resistito purtroppo questa mia calda voce non ti accompagnerà, sarai tutto solo mi salto un po' qua che cazzo c'è questo qua? va bene va bene se non è il punto un po' non spaventare si è che si è incazzato non sto capendo non sto facendo pure molto ragazzi, mi dovuti, la verità non sto facendo va bene si vede proprio dove sta la mamma ah già sto tenendo la candela perché dopo non mi si vede nell'inquadratura quindi capite cazzo questa volta mi sono stato fatto veramente potente sto facendo un forte senso di ansia non ci vediamo per amico Grazie a tutti Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Eccoti, con grande onore ti consegniamo la coppa del prova a non spaventarti. Congratulazioni! Quale tra i 5 video ti ha messo più a dura prova? Dillo qui sotto! E non dimenticare di iscriverti al secondo canale! Siamo tornati ragazzi! Se hai cliccato questo video, probabilmente hai già superato i livelli precedenti. No? Fa allora! Trovi i link in descrizione. Anche di questo trovate... Ti ricordiamo che i 5 filmati provengono dal profondo web. Questo video non è adatto a tutti e potrebbe urtare la tua sensibilità. Va bene. La mia voce ti tiene compagnia, vero? Bene! Durante la visione sarai tutto solo. Buona fortuna, amico. E se poi sai un po' di te stesso video di prima. ecco a e pianta da mezz'ora l'abbiamo capito provatela no no si è vissuta qualcosa e si è un bestemmione sarà un po' più cura da me la dieta si lo so ahahah questo è un strato c'è stato un po' più ampia non sono zucca ne arriva anche un altro di questi mini qua che iniziano a paccare il pacchetto sullo spagno io l'avevo giusto da uno youtuber quindi il video è tutto silenziato l'avevo fatto tutto youtube quindi non ci chiamiamo adesso si è piaciuto tutto ecco l'altro mini questo è un documento abbastanza ansia di persone no cos'è? cos'è? no è fatta sapevamo che ce l'avresti fatta tutto bene? o sei mentalmente deviato? facci sapere qui sotto cosa ne pensi di questo video quale tra questi cinque filmati ti ha messo a dura prova? dillo in un commento e non dimenticare di scriverti ad apriamo gli occhi due no 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 no